Ho pensato di raggiungere un passo nei grandi riesbi, tra le cuore e la storia si scioglie come un viaggiolo. Dicevo, la manifestazione, come sapete, tutta la stessa televisione, è composta da due differenti iniziative. C'è una parte di ballo, a cura dell'ASD, punta di piedi, per il quale vorrei un grandissimo applauso. Avremo delle esibizioni di ballo, delle sfilate, delle bambine, quindi se ci sono dei prodotti, non so scherzare. Chiaramente avremo anche una sfilata di ragazze adulti, quindi potevo invitare tutti gli adolescenti a tenere le mani in piedi di vista quando questo accadrà. Ma adesso lasciamo l'attenzione, il primo piano, all'ASD, punta di piedi, cominciamo con le loro esibizioni. Le ragazze che iniziano a sfilare, immagino che adesso voglio dare a merzio come anche gli adolescenti. Facciamo un applauso alle nostre ragazze. E tra l'altro va così a lavorare. Ma va, voi li conoscete tutti, non so niente. Allora, tu manchi i cosi, perché io lo dico a tutti. Ma, però, sai che sarebbe bello fare una sfida così, la gente spina e dice le cose che non si devono sapere. Sarebbe fantastico. Aiuto gli scheletri nell'armadio. Il prossimo anno lo facciamo così, in radicato. E' un po' di voi, lo sai che questo qua lo vado. Questo non fa le fatture. E' un bel applauso alla gente. Facciamo una prova. Lei non fa nulla. Applauso. Maria! E lei parte c'è sul posto di assicurare i campati. Applausi delle cose brutte che facciamo nella vita. Mi capita male. Siamo assistendo alla sfilata di Manicolo, amico e credo tutti qui, ricordate che da Manicolo trovate tutti i principali traete internazionali, capi formali, spiutati, spiutati, pensiamo che non è veramente una donna, non è veramente bionda, se c'è il fidanzato ce lo può confermare. Forza cheerleaders, vedete un po' spede se lo vedete su Facebook, guardate un po' lo dico anche, non lo so, è la più bella che posso fare nel video che mi sembra palese, ovvio si, vabbè, magari c'è anche gente lì fuori, il signor Baffone, il signor che non è proprio l'air di acqui eh, è straniero, secondo me è rica prima acquata che cosa è lo serio tutti callori , questo è in pozzuno con lo ricaro, ma lo stesso, volessi muove rocarlo, no questo per quello straniero non passa da te, le calzature Noi invece sono un cante d'appoggio, dopo 4 anni di attività si trasferisce sempre con l'Italia per una nuova e grande serie al numero 52. No, pronto, appoggio, calza 2. No, pronto, appoggio, calza 2. Noi sono un cante d'appoggio, dopo 42 anni ci basta la sequenza, i pettici, già dicevano su Red Carden, con gli abiti di manicolo, abbigliamento tra lì. Guardate che bello questo vestito da cane, è meraviglioso, ho visto anche tutto da cane, che perfezione di sanzoria. Guardiamo che tutte le ragazze sono pettinate da Iomari, anche lui, lui era la precedente, è passata a Iomari, guardate. Noi non siamo in un cante d'appoggio, vediamo l'uomo se non potrete chiedere mai. Facchete in casa una carta di testo per essere tutto avvicinato. Ti bisogno, nel senso della punticcia, nel senso della pote dizsa. Sì, no, ci sono i ragionati, che sono i ragionati. Non lo salti, che non lo può. Contina Martini. Ci ridenze, che non lo spende, però. Non sento nulla e posso sentire nulla dalla curva. Gatemi un po' di soddisfazione, signore. Forza con lui, forza con queste mani. Grazie, grazie. Non per me, no, per gli abiti. Io sono un'amorizzata. Ci sono le foto che la moglie. Si spoglia, si spoglia! Quest'anno 5 di attenzione improvviso che c'è. Guarda, sono la gialla. Ma che contantemi la gialla, mi piace. La gialla che abita lì, che sta cercando di dovermi, dalle tre primi, facciamo allora. Ci sta crescendo. Non è pensata ne alla pazza, ne alla moda. C'è il traiuvo a suono, ma non riesce a coprire il suono e le nostre iniziative. Guardate il coraggio di questa donna, che stila nonostante la fai incide. E' un po' succede. E' un po' succede. Mi sa i branchetti. Siamo assistendo alla sfinata di Manifo, di Diametto, di Romani del Corsi Italia, Adam Minare numero 48. Tutti in mente, nazionali e internazionali che non... Se io dico ancora un pochino di girape gettati che la voglio molto ricicola... Vecchio pappone, fattore, affatti caderei l'occhio... Per primaverita, affatti cadere l'occhio... Prese una scollatura dobbiamo capo di pappone... Io ho visto gli occhi proprio ricicoli, con l'occhio estermatico l'ho visto, per caduto su una scollatura, cagato pappone... Eh, se quei matti potessero parlare. Grazie, corpo, stile. Vedete che i fatti di una persona che ci sono venuti con tutte? La fa le erogine. Ed ecco qua, stiamo vivendo come carcante, con una botta di grisotide, sul testo di grisotide e adesso è tornato a niente. Signor, ben tatuaggio. Non lì ne vai a riparci un bel tatuaggio, signor. Ben trago, va. Facciamo con un applauso, manico, ammigliamento. Ecco, così io sto in cassa la vita. Questa posta è volata, c'è la signora che ci ha riparato e dicevo, quindi forse è per sempre che sono andata. E detto così, se lo faccio, signori. E questo è un capo, la vostra pratica, anche se uno si vuole... E come potete dire, l'estate si sta avvicinando, non tanto per la temperatura, quanto per la musica latina americana, che toglie si comincia a frattumarci. Non c'è solo. No ma io so che tu hai la palla di essere scuricoloso o una pista Ah, metti sulla pagina Facebook il radicale Stava un momento ma ci fai prima Cosa che sai questo pallone che lo fai Non dici il primo e sinistro con l'occhiato E tutte le certinas che ci sono Potresti diventare i tuoi buoni C'è qualche signora qua che c'ha qualcosa di buono Guardatemi quanti sono i tuoi cittadini Tu c'hai il tuo buono Ah, guarda, le padelle vengono pagate con coltapazze Con coltapazze si vede fuori Tu c'hai il tuo buono E 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 tu c'hai il tuo buono Stricamento tra tutti i nazionali e internazionali di tutte le parti Stiloso e casual Per due le occasioni da Maricocca Insomma, tutto l'appoggiamento che vorreste togliere a queste potenze E tu c'hai il tuo buono Stricamento tra tutti i nostri avanti Grazie. Grazie. Facciamo un reggino a questo sveglio pubblico, facciamolo tutti insieme, grazie, 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 un applauso. Bene, moltiamo facile, nel senso metaforico ma anche nel senso fisico. Ricordiamo di occuparci di danza, che è sempre con la SD in punta di piedi, abbiamo visto la prima parte, due piccole e tre mesi, iniziamo, adesso ne avremo una un po' più importante da preferire i saluti, forse anche la difficoltà. Un applauso, grazie. Faccio un male qua, faccio un palazzo, faccio un palazzo dietro, finati.